11 nuovi positivi al coronavirus in Campania e quanto emerge dai dati comunicati dall'unità di crisi della regione Campania per quel che concerne i tamponi effettuati, 4.867 in tutto, presso i centri di riferimento del territorio regionale. In Campania i positivi totali registrati dall'inizio della pandemia salgono a 4.744 su un totale di 166.692 tamponi effettuati.